La Pink Room è un momento dedicato alle donne ma non solo, dove potersi prendere cura del proprio aspetto fisico, dove potersi rilassare. Abbiamo l'estetista che in questo momento sta facendo un massaggio rilassante a una donna che noi seguiamo anche per altri motivi. Abbiamo il parrucchiere e il tricologo che danno consigli gratuiti per le donne che vengono qui da noi, ma come dicevo prima non è solo un momento dedicato alle donne, ma chiunque abbia voglia di prendersi un po' di tempo per se stessi, malattie oncologici ovviamente. Solitamente la facciamo una volta al mese, sempre di domenica, per dare la possibilità anche a chi lavora di poter partecipare. Fino a quando? Speriamo per sempre, insomma. Più va avanti, più per noi. È un segno di soddisfazione, di orgoglio per quello che stiamo facendo qui a livello locale. Di solito ci fermiamo ad agosto perché comunque siamo un po' tutti fuori e quindi ci prendiamo un mese per noi, insomma. Quindi basta telefonare e prenotare? Esatto, basta telefonare in ufficio e si prende l'appuntamento. Cerchiamo di scaionare gli appuntamenti anche per evitare la calca all'interno dell'ufficio, anche il discorso Covid, raffreddori e quant'altro. Lei invece è consulente tricologo, oggi mette a disposizione il suo tempo a tutti i pazienti. Sicuramente è una cosa che dà orgoglio anche a umanamente. Assolutamente sì, è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Devo ringraziare anzi Barbara che mi ha coinvolto su questa cosa. Io già sono anche volontario Croce Rossa, quindi ancora maggiormente sono soddisfatto. Dare un attimo di dispensieratezza a queste persone è molto soddisfacente. Puoi consigliargli quello che può utilizzare nel meglio dei modi, è la cosa più bella. Lei oggi invece si prende cura dei capelli, che consiglio può dare a chi ne perde? In questo periodo sicuramente i capelli cadono di conseguenza della chimioterapia, quindi prevalentemente valutare quando tagliarli, come tagliarli e lasciare i capelli e la cute sempre idratati con i giusti prodotti specifici e i sciampi che non siano troppo aggressivi. Lei invece signora oggi è qua, che consiglio vuol dare a chi ancora non si è rivolto all'anvolto e quindi passare una giornata di benessere? Ma soprattutto lanciamo un appello per prevenire, perché la prevenzione è importante. La prevenzione è prima di tutto in questo periodo, poi ancora di più, perché abbiamo la possibilità di avere un periodo ad hoc apposito per la prevenzione nelle donne, specialmente con il mese rosa siamo un attimino più tutelate, per cui la prevenzione, prevenzione, prevenzione prima di tutto.